Al via il contributo per l'esito finale della promozione del premio distribuzione Atena Niche edizione 2024. Il patrono del premio Fabio Sacuzzo insieme alla direttrice artistica Gabriella Carlucci quest'anno hanno voluto dare spazio all'interno della carmessa Atena Niche ad un percorso che spesso risulta carente o addirittura assente nella filiera cinematografica, la distribuzione dei progetti nelle sale e nelle piattaforme. La consegna dei premi per questa edizione avvenuta nello splendido scenario del teatro greco di Tindari ha visto dunque anche il riconoscimento di una sezione speciale dedicato alla distribuzione di un film indipendente, opera prima e che trattasse tematiche sociali, argomento in linea con lo spirito del premio Atena Niche. Il film è designato dalla direzione artistica preseduta da Gabriella Carlucci e dell'ediatore del premio Fabio Sacuzzo è fuori scuola per la regia di Mario Spinocchio. Tanti gli artisti coinvolti da Alessandro Haber ad Antonella Ponziani, Francesca Rettondini, Salvo Saverio D'Angelo e tanti i ragazzi connessi con le scuole che hanno partecipato alla realizzazione del progetto filmico. Sono un po' confuso perché questo film l'ho fatto fuori scuola, tra l'altro ho chiesto a regista ma non mi ricordo più che personaggio facevo, quello preside, ho detto ma è un preside buono o cattivo, antipatico o simpatico? Ma ho detto no, molto simpatico, fa piacere, sono passati quanti? Tre anni credo, mi ricordo, fanno fatica il film a uscire ma poi i film indipendenti ancora di più. Speriamo che questo film abbia un suo percorso perché tra l'altro mi sono divertito quando l'ho fatto, molto devo dire, è una partecipazione ma poi la cosa curiosa è che debuttava mia figlia Celeste, Celeste Haber, ricordatelo, un volto è una storia, non sto scherzando, ma speriamo poi, non so se è un indotto per lei di fare questo mestiere, non lo so, forse non ha ancora deciso. Poi non ho visto neanche il film, per cui non so niente del film, la segniatura era curiosa, il personaggio mio mi piaceva farlo, mi ricordo, mi sono divertito e non potrò essere lì alla presentazione del film perché sono in tournée, comincio la tournée, la coscienza di Zen, lo riprendo per cinque mesi, per cui mi dispiace molto non esserci, perché mi piace accompagnare i film, prenderli per mano, insomma, in qualche modo, speriamo che abbia un buon percorso, che Mario possa fare un altro film e vi abbraccio tutti e grazie per l'attenzione. Haber, fanculo, baci, ciao. Sono felice che questo film possa arrivare nelle sale, è frutto di lavoro e di sacrificio che negli anni un po' tutti noi che abbiamo partecipato ne sappiamo qualcosa. Spero che piacerà e che arriverà nel cuore di tutti.